17 giri, 17 giri per la categoria M6, M7, M8, a seguire le previazioni. In questa categoria c'è il mio campione del cuore, Ettore Manenti, ho avuto la fortuna di registrare tante sue vittorie. Adesso abbiamo il campione italiano, CSI, Massimo Puccini, tra altri due atleti che tutti non scusacchiamo ma che vediamo sempre. Già pronti! Ecco partiti, M6, M7, M8, fanno 17 giri. Sono i morti. Ecco affrontano la curva. C'è già un tentativo di allunga, un atleta, un atleta in fuga. Un atleta in fuga sin dal primo giro. Grazie. Taglie. Vediamo la possibilità al numero 917. Numero 950. In giro. 16 giri e termine. Fatti, fatti, fatti. E' già nata una fuga sin dalla partenza. Ecco che affrontano la curva. Prosegue la fuga, ma appena da pochi metri, il gruppo è lì, il gruppo è lì, sfilato in fila indiana.